Amici di Urban Week, bentornati! Questa è Urban Tume, la rubrica che si occupa di video virali all'interno di Urban Week, ma non solo di video virali. Salve a tutti, io sono VJ Carsey con la V e non con la D. Se vi dico Walter White o Jesse Pinkman, cosa vi viene in mente? Beh, a qualcuno magari nulla, ma chi è appassionato di serie tv magari si ricorderà benissimo di Breaking Bad della sua sigla. Breaking Bad appunto è una serie televisiva che ha riscosso tantissimo successo negli ultimi anni, dal 2008 al 2013. L'ultima serie appunto è finita da pochissimo, lasciandoci tutti un po' di stucco. Beh, ma non è proprio di Breaking Bad quello di cui voglio parlare oggi, ma di un utente che è un DJ, un produttore, che ha rifatto la sigla a modo suo. L'utente Metronium, già abbastanza conosciuto e famoso per i suoi remix e le sue cover di diverse sigle e diversi pezzi famosi, si è cimentato in questo rifacimento della sigla di Breaking Bad in chiave dubstep. Vediamolo insieme. Io, Gatorade me, bitch! Io che ho seguito tutta la serie televisiva dalla prima all'ultima puntata, tra l'altro ve la consiglio caldamente. Devo dire che ultimamente un po' mi manca questa sigletta. Beh, anche per oggi UrbanTube finisce qui. Vi ricordo sempre che è possibile rivedere tutti i nostri video nella nostra fanpage Facebook Urban Week Redazione e che sempre nella nostra fanpage è possibile consigliarci dei video che vi hanno colpito particolarmente. Anche per oggi è tutto, alla prossima!